Edoardo Stoppa e Giuliana Moreira si sono sposati Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa hanno pronunciato il fattidico sì. Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa si sono sposati oggi venerdì 10 novembre 2017. Poche settimane fa i due avevano comunicato di aver deciso di sposarsi, dopo dieci anni di vita insieme. Un matrimonio lampo organizzato in pochissimo tempo. Più volte avevano pensato di sposarsi, ma tra i vari impegni lavorativi avevano sempre rimandato. A quanto pari due hanno approfittato della visita del padre di Giuliana per organizzare le nozze. La coppia ha mandato gli inviti tramite whatsapp e gli abiti sono stati scelti in atelier. Il tema del ricevimento naturalmente è stato Italia Brasile. Le amiche dell'amore e ira le sono state vicine durante tutti i preparativi delle nozze. Infatti Giuliana le ha ringraziate con molto affetto. Tra queste una sola non è riuscita ad essere presente con il corpo ma solo con il cuore. . Prime foto della coppia prima del sì. . A lei, l'amore ira ha voluto dedicare un messaggio, manca la Nico, lei si chiama Nicoletta Bucci e un giorno di tanti anni fa, mi aveva fatto vedere una foto di Edo e mi ha detto e questo qui è da sposare. La stessa sera esco con una mia amica e vedo che arriva e si mette a parlare con noi tutta la sera. . Vabbè la storia è lunga ma lui era già cotto di me. . . Già qualche ora fa i due hanno postato le prime foto sui social prima di pronunciare il fatidico ed importante sì. Edoardo Stoppa è apparso visibilmente emozionato, ma ha postato con ironia una foto con i capelli spettinati, attribuendo la colpa al matrimonio. . Subito dopo, però, ha pubblicato una foto con l'abito da sposo, apparendo elegantissimo. . Tanti aguri agli sposi. .